Abbiamo appena comunicato un intervento relativo alle tariffe del teleriscaldamento, un intervento di comunicazione che ci sembrava doveroso nei confronti di tutti i nostri clienti, anticipando questo ritocco delle tariffe del teleriscaldamento che avverrà a partire dal gennaio del prossimo anno. Le motivazioni sono legate a fattori esogeni, quindi ad incrementi di costi non dipendenti dalla nostra volontà e che riguardano sostanzialmente due voci, i costi di trasporto del gas e la cosiddetta carbon tax, quindi gli oneri legati alla produzione dell'energia finalizzata al teleriscaldamento. Queste voci sono incrementate in modo esponenziale negli ultimi anni e fino ad oggi, quindi nel 2021, 2022 e anche 2023, sono state completamente riassorbite dalla società, quindi non hanno pesato sulle bollette dei cittadini, cosa che per il 2024, visti gli incrementi, non sarà più sostenibile e quindi la manovra, l'intervento prevede che noi comunque continueremo a far carico del 50% di questi costi, la rimanente parte sarà poi trasferita con un incremento delle tariffe del teleriscaldamento.